Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Prosegue la scia di furti in provincia di Arezzo, ultima vittima la consigliera provinciale Cinzia Santoni. Appena sono entrata ho sentito che era molto freddo, dico oddio. Il gatto, perché c'è una gatta, avrà aperto. Infatti sono andata, visto che era aperto, però ho visto le cose sul letto, sono andata nel salotto ed era spaccata la porta finestra. L'amara scoperta una volta rientrata a casa, vittima del furto, la consigliera provinciale Cinzia Santoni. È successo a Capolona attorno alle 20 mentre la donna si trovava alla tombola di beneficenza per casa Tevinin. Quello che mi ha lasciato stupita è stato il fatto che io sono in una serie di villette e sono un capotesta, sto d'angolo. Di fronte alle scuole elementari a Capolona c'è l'illuminazione pubblica abbastanza forte, quindi vuol dire che sono entrati appena fatto buio. Oltretutto devono essere anche un po' acrobati perché non è così immediato, anche se probabilmente sono avvezzi a ciò. Scarzo è il valore della refurtiva, più consistenti invece i danni che i ladri si sono lasciati alle spalle. Più che altro il discorso che trovi tutto fuori posto, ha sempre fastidio da un punto di vista intimo perché è come una violenza personale, perché la casa è la casa, ognuno di noi pensa che sia un rifugio sicuro. Come danni reali, niente di che, due catene d'argento e un cammeo, perché io non tengo né soldi né niente in casa e questo forse in parte mi ha salvato. Un episodio purtroppo non isolato. Posso dire che forse bisognerebbe riacquisire una sensibilità sociale da parte delle persone, perché molta gente si gira dall'altra parte, siccome i vetri spaccati fanno rumore, e quindi poi non è che vivi nella grande città, ma insomma in una comunità abbastanza piccola, è difficile che nessuno abbia sentito, come sempre, sono curiosi per tutto. Cioè almeno di affacci a vedere. Probabilmente se qualcuno accanto o di fronte si fosse affacciato, è molto probabile che sarebbero scappati, come è successo ad Arezzo. Quindi una maggiore consapevolezza sociale che basta delle volte fare un grido, basta delle volte, anche senza farsi vedere, chiamare i carabinieri, perché mi hanno detto che uno può fare anche una denuncia indicativa, diciamo anonima, e quindi la pattuglia sarebbe arrivata. Un uomo invece è stato denunciato dai carabinieri dopo che nel suo garage sono stati trovati 10 preziosi in oro e 5 orologi Rolex, il tutto per un valore stimato di circa 150.000 euro. I beni provengono da un'abitazione di Bibiena in cui l'uomo avrebbe fatto un furto nei giorni precedenti al Natale. È stato denunciato, è residente in Casentino ed è accusato di furto aggravato in abitazione. La persona derubata è invece una donna a cui saranno riconsegnati tutti i preziosi recuperati. A Dagnari partiranno invece a breve una serie di riunioni della consulta del cittadino con l'arma dei carabinieri. L'obiettivo infatti è quello di sensibilizzare la comunità sui principali casi di furti e truffe attraverso la conoscenza di tecniche maggiormente utilizzate fornendo consigli utili per prevenire altri reati. Il primo appuntamento è in programma nel capoluogo a Palazzo Pretorio giovedì 11 gennaio alle 21. Passiamo adesso alla cronaca giudiziaria e torniamo a parlare dell'inchiesta a Cheu. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 24 persone e 6 società. 24 imputati, tra cui imprenditori del distretto conciario di Santa Croce sull'Arno e di quello orafo a Retino, una famiglia calabrese considerata vicino all'Andrangheta, pezzi della politica locale e regionale a cui si aggiungono 6 società e una lunga serie di accuse come la corruzione e l'associazione per delinquere finalizzata al traffico e lecito di rifiuti. La procura di Firenze ha così chiesto il rinvio a giudizio per i protagonisti della cosiddetta inchiesta sul Cheu, i fanghi prodotti dagli scarti della concia delle pelli delle fabbriche di Santa Croce sull'Arno. Il caso scoppiò nell'aprile 2021 con i primi arresti. Al centro delle indagini le ceneri inquinanti prodotte dalla combustione dei fanghi delle concerie e lo smaltimento non corretto di queste scorie avrebbe determinato risparmi considerevoli in termini economici. Anche alcuni dirigenti delle aziende del comparto chimico orafo di Arezzo sarebbero finiti al centro dell'inchiesta in quanto ritenuti coinvolti nello smaltimento illecito dei rifiuti inquinanti finiti in un impianto di bucine, quello delle rose, recentemente messo in sicurezza. L'udienza si aprirà il 12 aprile davanti al gruppo Gianluca Mancuso. Viabilità sulla 1 Milano-Napoli per consentire lavori di pavimentazione. Dalle 22 di giovedì 11 alle 6 di venerdì 12 gennaio sarà chiuso il tratto compreso tra Valdarno e Arezzo verso Roma. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Valdarno, si potrà proseguire sulla viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante Roma ed entrare poi di nuovo sulla 1 ad Arezzo. E adesso torniamo a parlare invece di via Fiorentina. La Giunta ha infatti portato in dote un nuovo finanziamento per il cantiere della rotatoria. Una cifra pari a 730 mila euro che si somma agli stanziamenti precedenti e che porta così il quadro economico dei lavori ad un totale di quasi 8 milioni di euro. Sul rifinanziamento sono intervenuti i consiglieri di Scelguarezzo, Donati e Sileno. Scelguarezzo hanno detto che più di un anno fa ha chiesto una commissione speciale per comprendere meglio tutte queste criticità riscontrate. In quell'occasione i consiglieri comunali di maggioranza l'hanno affossata con un voto contrario assumendosi in solido con la Giunta alle responsabilità di un'opera già da 8 milioni di euro ma ancora ai nostri di partenza. E anche Alessandro Meucci, coordinatore della lista civica delle frazioni, è intervenuto chiedendo all'amministrazione comunale di valutare se sia opportuno portare a termine l'attuale progetto della rotatoria di via Fiorentina. E adesso torniamo invece ad occuparci dell'indagine olfattometrica commissionata dal Comune di Arezzo per scoprire l'origine dei cattivi odori segnalati da varie zone di Arezzo. Sono già 140 le domande arrivate alla società incaricata. Da 140 candidati dovranno diventare 30. Parliamo dei nasi, persone ovviamente, che saranno arruolati dalla società individuata dal Comune di Arezzo per l'indagine olfattometrica che dovrà stabilire quanto e quali odori molesti si avvertono nelle frazioni del Comune di Arezzo di Ponte Acchiani, Battifolle, San Zeno e altre. Le stesse da cui da circa due anni a questa parte molti residenti lamentano i cattivi odori che rendono impossibile la vita all'aperto. L'indagine partirà il 15 di febbraio fino al 15 di agosto. Sei mesi, un tempo molto lungo, lamentano i cittadini che si dicono preoccupati di dover passare un'altra estate con il puzzo. La necessità ovviamente di condurre questo studio, questa analisi su un orizzonte temporale ampio è necessario proprio per indagare diverse anche condizioni stagionali e meteoclimatiche. Quindi questo è indispensabile. Nel frattempo l'azienda cosa sta facendo? L'azienda innanzitutto, mi premo qui ribadirlo, che l'azienda ha in tutti questi anni subito un sacco di controlli da parte dell'autorità che non hanno riscontrato di fatto nessuna violazione delle norme per cui questa azienda esercita. Quindi l'azienda sta esercitando nel pieno rispetto della sua autorizzazione. Però essendo, come ho detto mille volte, essendo un'azienda pubblica, noi abbiamo ovviamente tutto l'interesse affinché si individuano le cause e si possano mettere in atto delle azioni per mitigare questo impatto. Perché vogliamo tutelare i nostri cittadini, non è vero che non stiamo facendo nulla, ma vogliamo tutelare anche il nostro impianto in un ambiente pubblico. L'indagine si svolgerà con tempi e modalità ben precise, alcune anche piuttosto curiose come ad esempio non sentirsi affamati o assetati durante la prova, non utilizzare cosmetici prima della prova e così via. Ultima voce del regolamento, non è consentito entrare nell'impianto oggetto dell'indagine prima dell'esecuzione della prova al fine di evitare contaminazione olfattiva. Ovviamente verrà poi, mi immagino, programmato tutta una serie di orari, di interventi e quindi comunque questi soggetti non è che andranno lì a chiamata o a indicazione dei cittadini, lì saranno comunque giorno e notte, quindi a degli orari prestabiliti e poi dopo faranno delle rilevazioni. E' chiaro che poi il tutto va su un database e verrà fatta un'analisi statistica, verranno incrociate le rilevazioni con i dati metoclimatici, quindi vento, pressione, temperatura, per poi rimettere tutta questa montagna, questa mole di dati all'interno di un modello, di un software numerico che dovrà in qualche modo poi dopo dare una risposta e costituire anche uno strumento per poi fare delle simulazioni previsionali. Un'indagine definita ridicola dal comitato Aretino Stop Puzzo. E' ridicola perché tutti sappiamo da dove provengono il puzzo. Lo stesso presidente dell'azienda in un post di Facebook dice che emettono emissione d'origine, quindi tutti lo sanno. Quando abbiamo fatto la visita dell'azienda siamo entrati dentro le camere di fermentazione eccetera e l'odore che abbiamo sentito lì è lo stesso odore preciso che sentiamo nelle nostre case a fino a 4, 5, 6 chilometri di distanza. Io l'ho sentito una volta anche la formacea comunale in zona Campo di Marte, quindi più 100 di lì non si può. E oggi è il sindaco di Arezzo a rispondere al comitato. No, l'indagine non è ridicola perché è affidata a una società che fa esattamente questo di mestiere e che dovrebbe darci la quantificazione e la diffusione di questi cattivi odori nel territorio. Quindi è una visione terza di quello che è un problema sentito da alcuni che noi riconosciamo e però vogliamo capire come stanno le cose. Sul tema torna ad intervenire il consigliere comunale di Arezzo 2020, Francesco Romizzi, che invita l'amministrazione a cambiare rotta cercando le soluzioni negli impianti che hanno già affrontato con l'uso delle tecnologie industriali questa problematica. La vera indagine dichiarato da fare non è tramite le squadre antipuzzo ma quella che consente di conoscere le soluzioni assunte in altre situazioni simili. Voltiamo pagina, quella di domani infatti una data cerchiata di rosso per il passaggio al mercato libero del gas e anche ad Arezzo ha aperto le sue porte lo sportello risparmio energia. Vediamo di cosa si tratta. Serve una guida e servono delle persone qualificate come noi che in qualche modo aiutino il cittadino soprattutto anche a non incurrere nelle varie frodi perché sappiamo che oggi purtroppo anche nelle categorie protette che escono dal mercato tutelato si verificano anche dei casi di frodi. Ecco noi aiutiamo queste persone, ovviamente il servizio è esteso anche a tutti i cittadini e alle imprese. Nasce così risparmio, energia e Arezzo, uno sportello aperto al pubblico negli spazi della Chiazza dell'Energia in vista della scadenza del prossimo 10 gennaio e il conseguente passaggio nel mercato libero del gas. Lo stop al mercato tutelato per la bolletta dell'elettricità invece è stato prorogato al primo luglio. Una guida ai cittadini e alle imprese su che cos'è la bolletta, come risparmiare ovviamente e sull'efficienza energetica. Il mercato libero del gas e dell'elettricità ormai è una realtà quindi dobbiamo concentrarci, dobbiamo orientarci in questo mercato e far sì appunto che i cittadini in qualche modo abbiano una guida e una consulenza. Questo è il posto giusto, insieme a Risparmio Energia riusciamo a fornire una serie di distributori, produttori e broker di energia ovviamente i più vantaggiosi sul mercato e nel periodo di 60 giorni abbiamo una serie di regali, una serie di offerte che verranno appunto elargite ai primi clienti dello sportello. Casentino Lane, SRL, è diventata proprietà dell'anificio Manteco di Montemurlo in provincia di Prato. L'annuncio lo ha dato la stessa azienda, pratese che con l'arrivo del nuovo anno ha dato conto dell'operazione che ha portato all'acquisizione del 100% della piccola filatura cardata di Bibiena. I 27 dipendenti della fabbrica manterranno il loro impiego senza alcuna modifica, mansioni ed orari di lavoro. E anche in questo 2024 sono tornate le lezioni di educazione civica organizzate dall'Associazione Tra Tevere e Darno. A salire in cattedra questa mattina nel Palazzo della Fraternità dei Laici il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. I temi della sostenibilità ambientale sono i temi forse i più importanti insieme a quelli della pace e della nostra epoca. Quello che è il problema di oggi è un po' per tutti, proprio quello legato alla sostenibilità ambientale e al tema dei cambiamenti climatici e a quello che le città e i sindaci possono fare per ridurre questi rischi enormi che ci sono per i cittadini. Sostenibilità ambientale ed energetica è stato il titolo del nuovo incontro della scuola di educazione civica con un relatore d'eccezione, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. I rischi lo vedete, siccome piove sempre peggio ci sono problemi legati all'esondazione dei corsi d'acqua, ci sono problemi legati alla cattiva gestione dell'agricoltura dovuta alle esondazioni e tutto quello che significa poi l'inquinamento per altro verso dovuto ai gas serra. L'inizio del nuovo anno è anche tempo di bilanci per la scuola di educazione civica promossa dall'associazione Tratevere d'Arno. Un bel bilancio, inattivo, fortemente inattivo, nel senso che i ragazzi oramai sono centinaia e centinaia che sono stati presenti alle lezioni, vere e proprie lezioni di educazione civica nelle scuole superiori della città e della nostra provincia, sono stati a mio parere straordinariamente attenti. Io alla loro età forse sarei stato meno attento. Un'avventura iniziata ad ottobre che continuerà il suo cammino per tutto l'anno scolastico e che dà la possibilità di immergersi nell'educazione civica, materia tornata nelle scuole nel 2020. Loro hanno due valutazioni annuali nel primo quadrimestre e nel secondo quadrimestre in base chiaramente a un lavoro svolto. Alcune scuole hanno praticamente fatto una programmazione di istituto, altre scuole hanno fatto adottare un libro di testo, ma l'esperienza diretta che arriva da questi personaggi che si sono praticamente uniti alla nostra idea è chiaramente superiore. Per esempio la lezione che ha fatto il dottor Rossi l'altra volta sulla sostenibilità è stata praticamente considerare l'atto alimentare come un atto ambientale. Questo il libro non lo dice. Un'open day per rappresentare il calendario dell'attività che da gennaio staranno ospitate nel palazzo di Via Pelliceria. Venerdì prossimo dalle 12 alle 17 alcune associazioni socie della Fondazione Arezzo Comunità e di istituzioni in partnership incontrano la città per proporre appunto una serie di appuntamenti che in maniera stabile si svolgeranno negli spazi del polo di formazione delle economie immateriali. In particolare Toscanabile Unesco, Università della Terza Età e Arezzo Psicosintesi. Ed è stata invece una giornata a Luna Park per decine di ragazzi e ragazze con disturbi del neurosviluppo. Il parco divertimenti in Viale Duccio di Buoninsegna ha previsto infatti un'apertura straordinaria in orario mattutino per ospitare gli utenti del servizio start dell'Istituto a Gazzi e di altre cooperative e centri di urni della città di Arezzo a cui è stata offerta l'opportunità di salire gratuitamente sulle varie attrazioni vivendo così un'occasione di incontro, divertimento e spensieratezza. Andiamo adesso in Valdichiana a Cortona, un nuovo appuntamento quelle domeniche al Museo Al Maic. Il prossimo 14 gennaio alle 18 nella sala medicia di Palazzo Casali arriva il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco. Il noto studioso di antichità egizie presenterà la sua recente pubblicazione alla ricerca di Tutankhamon, il famoso faraone morto in età ancora precoce e deposta assieme ad un ricchissimo corredo che costituisce uno dei complessi di maggior appreggio del Museo del Cairo. E adesso la pagina dello sport. L'Arezzo femminile ha iniziato nella migliore dei modi questo 2024 vincendo a Pavia 5 a 2 grazie ad una tripletta di Diaz. Sentiamo le parole di Mr. Mike. In questa categoria non c'è mai una partita facile e quello è il bello del Serie B, il livello di competizione. Noi dal primo minuto, sapendo anche che il Pavia ha incontrato altre squadre diciamo forti e hanno fatto delle belle prestazioni, noi siamo stati preparati per entrare nella partita e dal primo minuto abbiamo portato un piano di gioco che penso che l'abbiamo fatto alla perfezione. Quindi sono molto contento che ora dopo cinque mesi e mezzo di lavoro abbiamo trovato la strada giusta, come hai detto te, tutte le unità si conoscono meglio e questi rapporti tra le unità calcistiche si allineano con la filosofia. Il presidente Anselmi è stato veramente dal primo giorno che l'ho incontrato su una video call è stato sempre chiaro che vuole crescere questa società, vuole arrivare il più atto possibile e vuole creare qui un ambiente anche per la città perché vuole che veramente la città è orgogliosa di questo progetto, le donne nella città che giocano a un alto livello. Quindi noi dal primo giorno abbiamo lavorato per questo, hai detto anche te che per me era un po' una squadra che non ho fatto io, non mi conosceva la squadra, io non la conoscevo diciamo personalmente quindi abbiamo avuto qualche piccoli ostacoli come hai detto te, però piano piano ora abbiamo trovato la strada giusta. Prossima domenica una partita che apparentemente è sempre facile e invece tutte le partite sono difficili. Il nostro obiettivo, ho detto anche il presidente stamattina, siamo entrati diciamo nel 2024 con quattro partite da giocare per completare questo primo giro di andata. ho detto io voglio fare 12 su 12 e ora abbiamo preso i tre primi punti, c'è sempre voglio vedere avanti e fare ora 9 su 9, però il calcio come hai detto te non funziona così, quindi noi andiamo partita per partita però l'obiettivo è sempre di vedere avanti ed andare avanti. Prosegue l'avventura dell'Africa Eco Race per il team Rossi 4x4, vediamo com'è andata la stessa tappa. E' finita la tappa numero 6, oggi abbiamo attraversato la frontiera tra il Marocco e la Mauritania, ci siamo fatti un bel po' di trasferimento e dopo all'ora più fresca alle 14.47 abbiamo presso il via per la speciale numero 6 e devo dire che la pista era completamente sabbia e la sabbia era diciamo molto morbida e il percorso però aveva delle insidie continue, 200 km bisognava fare attenzione, non si riusciva mai a poter dire bene ok vado, si è sollecitato molto il cambio, terza, quarta, anche la quinta oggi quindi nel fondo in alcuni tratti era duro e agevole, io dico che ce la siamo cavata molto bene, Jacopo molto preciso, bravo, attento e aveva un compito anche oggi non semplice però ha fatto il bravo fino al traguardo e mi ha aiutato molto molto, eccoci qua in Mauritania a Ciami dopo tappa veramente come diceva Stefano veramente veramente tosta, lui si è fatto un mazzo così alla guida perché veramente ogni 200 metri c'era un'insidia che non si vedeva, cavolo in due a guardare la strada e qualche giolettino ce lo siamo giocati però è andata molto bene, è andata molto bene, si è fatta scorrere molto molto velocemente, in tre ore abbiamo completato la tappa quindi siamo molto soddisfatti e ora eccoci qua al divacco e facciamo raffreddare un po' la cucciola perché anche oggi qualche stiracchiata l'ha presa. Medaglie record per il ritorno in pista dell'Alga Atletica Rezzo la stagione ha preso il via con la tradizionale partecipazione al meeting nazionale di Ancona dove la società retina ha rotto il ghiaccio con otto atleti che si sono impegnati in diverse categorie e diverse specialità e sono subito riusciti a lasciare il segno. La prima tappa dell'importante manifestazione ha rappresentato un banco di prove in vista dei campionati toscani ed italiani d'inizio 2024 per testare la preparazione invernale a confronto con coetanei di tutta la penisola con tante positive prestazioni tra cui spiccano i primi tre posti di Riccardo Cincelli nei 60 ostacoli, Filippo Guiducci nel salto triplo e di Stella Arniani nel salto collasta. Ed ha trionfato invece la Virtus Buon Convento nell'undicesima edizione del torneo dell'Epifania che si è svolto come consueto a Cortona nella piscina gestita proprio dalla società senese. Le gare hanno visto la partecipazione di centinaia di atleti provenienti dalla Toscana, dall'Umbria, dalle Marche, dal Lazio, dalla Lombardia e dall'Abruzzo che si sono sfidati tra le corsie della piscina comunale. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci. Grazie a tutti!